Serata da protagonista per il francese. Entrato nella ripresa e poi chiamato a fare l'improvvisato portiere nei minuti di recupero dopo l'espulsione di Maignan. Un intervento decisivo gli ha fatto meritare i complimenti di compagni e nuovi colleghi tra cori e dediche. Ecco sono tutte le reazioni. Per Giroux non era esattamente la prima volta nei post. Giroux protagonista in porta. Video.